Buongiorno a tutti, siamo alla fiera di franchising Piacenza Nord 2016, un appuntamento che ci vede presente già da più anni. Io sono Umberto Gonnella, sono l'amministratore delegato di 101 Caffè. La nostra azienda è un retail specializzato nel mondo del caffè porzionato in cialde capsule. Il progetto è partito e ha come missione la ricerca delle eccellenze italiane nel mondo della torrefazione. In Italia ne abbiamo più di 800, ne abbiamo selezionate 20 sparse nel territorio italiano e questa eccellenza la portiamo a casa dei consumatori all'interno di una catena di negozi specializzata. Abbiamo un catalogo prodotti di oltre 1600 codici, di cui 600 prodotti li facciamo a nostro marchio. È molto importante oggi lavorare con una grande profondità di gamma, oggi il consumatore è molto esigente e non beve solo caffè. Oggi con le nostre macchine per le capsule beviamo tanti prodotti, orzo, ginseng, cicoria, facciamo veramente tanto. I nostri piani di sviluppo per il 2016 sono la chiusura dell'anno a 90 punti vendita e per il 2017 abbiamo un piano di raddoppiare i punti vendita esistenti. Direi che il successo è legato sicuramente alla qualità dei nostri prodotti ma sicuramente al grandissimo lavoro e va in ringraziamento alla nostra rete degli affiliati che sono straordinarie e che contribuiscono a diffondere la cultura del caffè che è sempre stata italiana e che per il 2017 porteremo anche al di fuori dell'Italia in un progetto di internazionalizzazione del marchio. Grazie. Grazie.